ed eccoci qui appena finita la partita Lecester roma 1 a 1 diciamo che come per come si è messa la partita oggi è andata abbastanza bene come ho visto io la partita sinceramente parlando è certo che secondo me ha giocato molto molto meglio dopo oggi proprio mamma mia zagnolo ha fatto un cazzo come una bestia sinceramente mamma mia per carità chiacchiera 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 e poi quando c'era fai fatti una beata minchia in campo porca troia quindi anche lui cominciasse a gioca porca puttana fare interviste su i giornali oggi davvero una delle peggiori partite in assoluto con la roma a mio modo deve vedere stessa cosa di apra ma anche lui da tutte le partite a sta parte davvero evanescenti porca troccola quindi c'è da se una svegliata che carità ha fatto una mare alle golle ma che fanno ci fermiamo proprio adesso porca troia è anche vero che c'è mai in sostituto il degno quindi gioca sempre e dopo anche questo vuol dire secondo me perché non è così ufo robotto qui quindi secondo me pinto da lavorare parecchio anche sulle riserve perché parecchie riserve non sono da roma non sono manco la campionato della serie a non sono manco la serie b a mio modo deve vedere vedere felix che non serve a niente lo stesso vero e tu che non serve a ne merito cazzo sinceramente parlando e quindi oggi davvero c'è poco da salvarsi salvo solo ovviamente il gol zaleschi che ha fatto un'ottima azione sul gol per il resto davvero poca roba in modo deve vedere infatti appena è uscito Mkhitaryan tra l'altro infortunato quindi male 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 appena esce Mkhitaryan se spegne la roma se spegne la luce in tutti i sensi porca troccola e quindi niente una partita tutt'altro che facile infatti si è visto questi Nenno e Bodo questi giocano a calcio hanno sparato diverse volte secondo me hanno giocato nel complesso anche meglio anche perché hanno sempre tenuto il pallino del gioco l'autore del gollo ma cazzo si chiama aspetta che non mi ricordo ma cazzo si chiamava comunque quello dei colori insomma tra i migliori in campo è sicuro anche se a dire la verità è più mancini che l'ha buttata dentro che che non lui però alla fine c'era anche il centrocampo del Leicester sicuramente i migliori in campo l'intero centrocampo a mio modo di rivedere al Brinton come si chiamava sicuramente i migliori in campo lo stesso Smychel che nel secondo tempo ha fatto una parata strepitosa su Sergio Oliveira davvero miracolo a mio modo di rivedere però oggi la vero al secondo tempo la Roma è letteralmente uscita dal campo a mio modo di rivedere per me questo 1 a 1 è un po diciamo che è oro per come abbiamo giocato oggi però è sempre sul chi va là anche perché non c'è più la differenza reti quindi alla fine sempre 0 a 0 sempre 1 a 1 e quindi niente incazzato come una bestia oggi perché se passiamo da partite buone a partite di merda secondo me la certo strasce che è anche la parità con l'Inter a mio modo di rivedere anche perché giocano sempre i stessi o quasi quindi purtroppo non c'è molti riserve anche se metti le riserve in zona adeguata lo stesso Vigna entro 10 minuti capace che fa un macello dopo l'altro che rovina tutto quindi direi di apinto le fa una bella rivoluzione stanno perché servono davvero delle riserve adeguate perché queste sono inadeguate a modo delle vede e quindi niente diciamo che mi aspetta molto di più oggi c'è sempre un qualche problema che non va in testa roma però considerando i giocatori in campo che secondo me parecchie da sta gente sono sopravvalutati diciamo che stanno a fare avere un miracolo a essere già insieme finale onore a questa gente che va a vedere anche le partite anche lontanissimo in inghilterra onore a noi romanisti sempre comunque che ci spendiamo i soldi e ci rompiamo il cazzo e oggi abraham c'è proprio da provo di cazzarola ha fatto un cazzo come una bestia sinceramente altro che provo di un cazzo e quindi niente appuntamento alla prossima adesso il 5 maggio data un po' nefasta per qualche altra tifoseria vabbè e niente appuntamento alla prossima sempre 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 forza l'uomo questo se non fa così sto telefono grazie a tutti